Ora che 5 pagine di un'elezione nel settembre 22, che ho deciso di ottenere una forma di scabellare, una forma di ad hoc, un po' di noi tendo a eliminare la presione di alcune persone, arriva il primo ministro, e non solo finanziariamente, ma che non è una compagnia di un'economia negativa, una situazione con un'economia che sta sano finanziariamente, e che ha avuto un'economia e il pronostico non è il risultato di un'economia che deve, che il popolo di Aruba deve pagare un'economia, e un'economia non è un'economia per riposare, fuori di un'economia nel mese, che mostrava che non è un'economia che non è un'economia per la situazione, che è un'economia grande, un'economia nel mese può realizzare e criticare, sopra praticamente in un po' rai, un'economia per un'economia in un'economia, quindi abbiamo avuto un'economia per l'uomo, un'economia per il risultato di un'economia, siano che la maggior parte del mondo deve comprare i associamenti, un'economia per diretti, perché il metri dentro dei centri della stessa in un'economia, ma questo mostra un viaggio a massa troppo con una forma di scabellare da tua decisione che ha in conseguenza per il paese qui